Era una partita evidentemente da vincere per chiudere il discorso salvezza, però purtroppo la partita a volte vive una di episodi e si era messa subito male, addirittura con un doppio svantaggio, eravamo sotto di 0 a 2. Bene, già è stata una mezza vittoria riuscire a portare sul pareggio questa vittoria, a quel punto pensavamo certamente di vincere perché l'avremmo pure meritato per quanto visto in campo, però guardando un po' questa classifica a questo punto oggi diventa determinante anche in ottica salvezza, certo un obiettivo riduttivo però un passo alla volta e questo costituisce già un primo traguardo probabilmente. No, fino ad oggi eravamo concentrato su questa partita e ancora per 24 ore almeno dobbiamo soffermarci su questa per analizzarla per certi aspetti, poi penseremo alla prossima e ci toccherà come prossimo avversario il Real Rock Bernard, terza forza di questo campionato, sarà una partita inevitabilmente dura, però noi vivremo questo finale di campionato giornata dopo giornata cercando di trarre il massimo e porteremo addosso la rabbia di questa mancata vittoria di oggi probabilmente. Questi ragazzi sono inevitabilmente da elogiare perché quasi casualmente si è venuto a creare questo piccolo gruppo diciamo di ultra che c'è stato vicino in tutte le partite in casa ma addirittura anche in trasferta. Poi oggi loro si sono esternati anche con questa manifestazione di solidarietà nei confronti di questi fatti di cronaca che hanno coinvolto Astori purtroppo che perdendo la propria vita che ha colpito tutti e anche in questa parte hanno recitato un ruolo determinante manifestando il loro dolore. Quindi sono ingommiabili e noi cercheremo di sostenere questo entusiasmo oggi e soprattutto per il domani. Quindi ringrazio loro e spero che ci possano essere sempre vicini. Parlando della partita di oggi è stata una bella partita. Abbiamo avuto l'opportuna di andare in vantaggio due volte e abbiamo rischiato di fare il terzo gol. E sul 2-0 la mia squadra un po' si è seduta, aveva pensato di aver vinto la gara, invece la gara dura 90 minuti e sono usciti alla distanza l'altra squadra. È stata una bella partita, sono contento del risultato alla fine. Noi abbiamo preso un punto per andare avanti nella classifica. Se mi impegno giochiamo con l'Eciro, un'altra bella partita, un'altra confrontazione.